è la volta di Isabella Tafuro Buongiorno a tutti Isabella Tafuro, agente immobiliare il mio curriculum lo conoscete se non lo conoscete andrete a leggerlo non mi pare opportuno spendere del tempo il valore del tempo io lo sto constatando adesso sette minuti saranno lunghissimi per le emozioni e brevissime per quanto invece c'è da dire abbiamo parlato di quello che è stato il passato io sono d'accordo con chi non ricordo, mi perdonerete ha cominciato a dire che bisogna parlare del domani e il domani paradossalmente è già domani la coesione, la condivisione delle idee sono valori imprescindibili ma la condivisione delle idee non è sufficiente occorre poi mettere in pratica le idee e mettere in pratica le idee vuol dire aderire tutti quanti in un progetto veramente impegnativo i prossimi quattro anni saranno veramente impegnativi la formazione, il metodo di lavoro l'informazione sono caratteristiche imprescindibili per i prossimi quattro anni il metodo di lavoro che tutti insieme andremo a costruire sarà esattamente la base che ci proietterà una professione intellettuale non è utopia, è assoluta realtà noi abbiamo già un regolamento per i crediti formativi che non abbiamo portato avanti con un ente di certificazione per quello che riguarda i crediti formativi ma abbiamo già una base su cui dobbiamo lavorare ed è una base fortemente impegnativa mi piace credere che la federazione si sia a tutti noi però chiedo un favore a tutti quanti coinvolgiamo tutti la base ma coinvolgiamoli veramente a cominciare dal territorio la formazione qualcuno ha detto è un elemento imprescindibile ed è quello che ha maggior visibilità è verissimo il territorio un programma di formazione a livello territoriale che venga sviluppato e utilizzato in tutti i territori è qualcosa di fondamentale è qualcosa che unisca da nord a sud tutti quanti noi il metodo, ripeto, è qualcosa che ci farà parlare la stessa lingua non ci saranno più barriere non si potrà più dire l'antiriciclaggio in una certa ragione viene praticato in un certo modo in un'altra no cioè tutti saremo uniformati ma non in maniera standardizzata le nostre personalità le nostre individualità saranno assolutamente una prerogativa imprescindibile però il metodo di lavoro che dovremmo portare avanti è esattamente il ponte che arriverà a condurci forse e finalmente io me lo auguro alla professione intellettuale ora io chiedo aiuto veramente affinché venga coinvolta la base associativa si ha forse l'impressione che da Roma noi si possa pilotare in qualche modo il territorio sono stata presidente provinciale del più bel lavoro del mondo se lo si fa con passione e con entusiasmo per cui io chiedo a tutti voi veramente coinvolgete la base associativa noi siamo al vostro fianco sicuramente chi porterà avanti i progetti della nostra grande federazione da domani sarà vicino al territorio non può prescindere da questo ripeto ecco il piano quadrinale di formazione è un piano che ha l'ambizione di dovere a poco a poco essere percepito come esigenza fondamentale al punto di diventare quasi nella richiesta più profonda nel sentire più profondo obbligatorio il piano di formazione è qualcosa che ci dovrà differenziare e anche in questo nel programma che noi portiamo avanti con la squadra di Giambattista Baccarini c'è una fortissima coesione e unione con i territori il territorio dovrà portare avanti e cercare di promuovere quelli che sono i corsi d'accesso alla professione non se ne è parlato non in tutte le province sarà facile però abbiamo dei partner che possono aiutarci utilizzare questi partner per l'accesso alla professione vuol dire condurre il futuro agente immobiliare ad una mentalità che ci renderà più grandi ci renderà sicuramente più indispensabili il nuovo agente immobiliare oggi viene fuori da un percorso didattico veramente molto modesto che cambia dal nord al sud con delle differenze notevoli in Lombardia abbiamo 220 ore in altre regioni 80 potete immaginare quanto possa venire fuori dalla preparazione di un neo agente immobiliare ecco dobbiamo stare vicino a loro cercare di incrementare fare un percorso di comunicazione al nuovo agente immobiliare di strumenti e di materie di programmi che non sono ancora inseriti in quello che sarà il nuovo che potrebbe essere il nuovo ordinamento ministeriale per l'accesso alla professione parlo del io ho come tantissimi di voi sicuramente insegno ai corsi di formazione non c'è l'antiriciclaggio non c'è la privacy non c'è l'acquisizione ecco io dico ai territori noi ci siamo noi se ce la faccio noi ci saremo ad aiutare il territorio è fondamentale le piccole province che sono sprovviste di fondi economici per poter portare avanti un piano formativo che sia magari chiamato tale con la F maiuscola bene io mi sento di poter dire che chi di voi oggi insegna o ha presenta nei corsi di formazione può essere lo stesso formatore quanti formatori abbiamo assolutamente impreparati o quantomeno assolutamente ignari della nostra professione si parla di formazione a vari livelli a parte l'alta formazione che è un elemento indispensabile a cui non si può rinunciare ma l'informazione spicciola l'informazione del lavoro quotidiano chi può trasmetterla se non noi anche in questo saremo presente nel formatore agente immobiliare che si mette a disposizione del neo agente immobiliare dell'agente immobiliare che chiede aiuto perché guardate credetemi sono veramente bisognosi ma lo chiedono a gran forza di aiuto non hanno un metodo non hanno strumenti gli strumenti della FIAIP è un passo che va oltre cioè chi è in FIAIP poi riconosce il merito e si approccia ma chi ancora non conosce la nostra federazione beh insomma bisogna assolutamente star vicino a queste nuove leve per cui il territorio scusatemi basta grazie grazie grazie